che giornata super fantastica B2 è bananissima B1 e dove godersi il sole se non su una magnifica bellissima distesa di rifiuti dov'è la spiaggia? dovrà essere da qualche parte da qualche parte sotto questi rifiuti pensi anche tu quello che penso io B1 credo proprio di sì B2 diamo una bella pulita là c'è una busta di plastica sta volando via B1 non per molto B2 presa! lo hai visto anche tu quello scintillio? adesso sì, l'ho visto anch'io ma è bellissima! come ci sarà finita là? deve essere stata una grossa onda e adesso è in trappola potremmo rimetterla in mare? ma certo! come la prendiamo B2? proprio non saprei B1 non possiamo prenderla usando le mani ha bisogno di restare dentro l'acqua dobbiamo trovare qualcosa per prendere lei e un po' d'acqua e che non abbia dei buchi qualcosa come una busta di plastica qualcosa come quella busta di plastica è perfetta B2 con delicatezza B1 sarò delicatissimo B2 è ancora più bella vista così da vicino è sfavillante ed è anche tanto piccola hai visto? forse è troppo piccola per badare a se stessa dentro l'oceano forse allora è meglio se non la rimettiamo in mare ma non possiamo neanche lasciarla in quella pozza oh e adesso? che dobbiamo fare? pensi anche tu quello che penso io B2? credo proprio di sì B1 porteremo la pesciolina a casa con noi! ti daremo tantissime cose buone da mangiare che ti faranno crescere sana e forte presto ti rimetteremo di nuovo in mare e sarai felice per il resto della tua vita ehi tu pesciolina sai che sei carina ti va di stare insieme a noi c'è più allegria se sei in compagnia faremo tutto ciò che vuoi B2? ma siamo sicuri che a lei piaccia essere chiamata pesciolina? forse dobbiamo trovarle un nome qualcosa tipo... pensavo... pensi anche tu quello che penso io B2? credo proprio di sì B1 noi ti chiameremo Diamantina non ha l'aria molto felice B2 è perché questa busta è troppo piccola per lei e neanche sicura se è per questo sbrighiamoci ad andare a casa sta attento a quel tronco B1 non c'è alcun problema B2 oh no! cosa c'è? guarda! diamantina! prendila! presto! prendila! dov'è diamantina? l'abbiamo persa no! guarda lassù! hai rischiato grosso diamantina scusa, non volevo ci serve il posto adatto dove mettere Diamantina ci serve un bel acquario ma certo! un acquario! ma... B1? dimmi B2 dove lo troviamo noi un acquario? gli orsetti non ce l'hanno e nemmeno Rat e neanche Bernard Charlie! diamantina che nome delizioso devo dire che l'è stato in canto ha bisogno di un acquario Charlie un acquario? boh 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 beh ma certo sono sicuro di avere un acquario da qualche parte vediamo Charlie? ma quello lì non è un acquario? quello? no, 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 no ne sei sicuro Charlie? che cosa straordinaria eccolo qui sì possiamo usarlo per diamantina? è tutto vostro banane è per la vostra piccola diamantina prima dobbiamo pulirlo ci servono del sapone e dell'acqua torniamo subito diamantina dove va? non rotolare via diamantina ti ho presa avevamo paura di perderti lo sai prima ti metteremo al sicuro nell'acquario e meglio sarà ma dobbiamo ancora pulirlo allora dove abbiamo messo i secchi? i secchi? i secchi sì questo sì che è un acquario pulito B2 pulito e splendente B1 una casetta pulita per la nostra nuova amica diamantina ottimo lavoro l'unica cosa che ci serve ora è diamantina dove vai? inizia a saltellare di nuovo ti salveremo dove è finita diamantina adesso? guarda è andata lassù e sta volando dalla finestra diamantina torna qui dove vai? diamantina presa credo che sia molto felice lì dentro è davvero una casa fabolosa non sembra che le piaccia B2 penso anch'io la stessa cosa lo sai? ora che facciamo? forse avete ragione voi banale diamantina ha l'aria di non essere per niente felice oh no questo vorrebbe dire che a diamantina non piacciamo per niente oh ah non traete conclusioni affrettate la mia è solo una deduzione niente altro oh una deduzione? così va già meglio che cos'è una deduzione? è cercare di trovare la giusta risposta sono sicuro che le piacete entrambi dici davvero? ma le piace anche questo molto di più che cos'è quello Charlie? è il mare il mare? la sua casa senti nostalgia di casa precisamente ma noi intendevamo riportarla a casa Charlie dopo averla fatta crescere resa più forte diamantina vi ringrazia per questo ma preferisce badare lei a se stessa diamantina è davvero questo quello che desideri? credo che abbia detto di sì B2 già lo penso anch'io B1 scusaci se ti abbiamo portato via dalla tua casa puoi perdonarci oh grazie diamantina è il momento di andare sta molto attento B2 sarò attentissimo B1 addio diamantina stai attenta diamantina è tornata nel suo luogo ideale ma ora che se n'è andata mi sento tristissimo sono triste anch'io ma sono felice che sia a casa sì anch'io a proposito di casa è ora che torniamo a casa anche noi B2 hai ragione come al solito B1 ho ro Ciao